Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, oggi siamo tornati nel terzo episodio di Horizon, ora non prendiamoci di chiacchiere e scopriamo cosa dovremmo fare. Una carcassa? Che razza di bestia era? La tribù chiama Secodonte ed è un tipo nuovo. È feroce. Da quando sono comparsi dieci anni fa hanno ucciso molti audaci. Già. Segui il sentiero, non è lontano. Quella capanna, che cosa è stato? Una macchina, ecco cosa. Quale macchina fa una cosa simile? La macchina a cui stai dando la caccia. Oh, capisco. Ok, mi dissorio. La carcassa di una vedetta. Recupero le parti. Guardati intorno. Che significa guardami intorno? Andiamo. Ehi. Porco scusa, non l'avevo messo. Allora, vedete questo qua. Poi questo qua. C'è roba vita. Allora, quello non riedicolo. Quanto cazzo. Ma. Un'intera loggia, distrutta dai secodonti. Ma quanti erano? Non ti ho portata qui per rispondere a domande, Aloy. Ti ho portata qui per occuparti di quello. Acco. Che anzio. Enorme. Ma come si fa a sconfiggerlo? Questo sarei tu a deciderlo. Questa è la tua caccia, Aloy. Solo tua. Non importa cosa accade, io non interverrò. Ma no. Non capisci questo? Adesso sei da sola. Devo restare nascosta. Ci può. Finirai in fretta. Mi avviso. Mi avviso. Mi avviso. Porca. Esquiva. Porca. vai 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 si ma... addio guarda che ho quasi sponfitto una munizione, qual cosa cazzo faccio? c'è solo due frecce una frecce che ho spazzato e ora ho due tipi riccio madre insomma mi devo nasconderti un po' più schifo ma come faccio? qua sopra non ci posso mettere a salire oooh perfetto vedete che ce ne stanno spero che non ci siano altri perchè ti ho portata qua? non per rispondere a domande allora... la sopravvivenza è perfezione era una prova per affinare le mie abilità contro una nuova macchina no seguimi queste sono terre di caccia Nora devono essere protette se non avessi distrutto il seccodonte domani quanti audaci potrebbe aver ucciso o ferito? la risposta è già nella domanda Aloy ti sei addestrata per anni per vincere la prova ma solo per te stessa come udace sarà tuo compito combattere per la tua tribù la mia tribù? avevi detto che non mi serviva ma non che non avresti mai dovuto servirla la forza di stare da soli Aloy è la forza di prendere una posizione di servire uno scopo più grande di noi questa è la lezione che devi imparare e ricordarla dopo la prova e quando non ci sarò più abbiamo finito qui seguimi il sole è sorto è il tuo ultimo giorno nell'abbraccio da è marginata usa questo tempo per riflettere sulle sfide che ti attendono quando andrai a cuore della madre ti attenderò lungo il cammino ho compreso l'ultima lezione rost davvero? ma se combatterò per qualcosa dovrà essere qualcosa in cui credo me lo auguro davvero Aloy me lo auguro torno alla capanna con te torno alla capanna con te non è lì che sto andando ho altri programmi oh e sarebbero? quando sarà il momento ti aspetterò ci vediamo a cuore della madre certo ok allora perfetto Aloy ecco dobbiamo parlare bene è ora sei pronta? sì suppongo è più rumoroso del previsto perché non sei mai stata così vicina? tutto è più grande da vicino presto ti sarà familiare come a casa questo non lo so cerca l'alta matriarca Tirsa ti aiuterà altre preoccupazioni? qualche lezione dell'ultimo minuto? no hai imparato ciò che la natura doveva insegnarti sei stato tu a insegnarmi non la natura non sono sicura che arco e lancia mi servano là dentro è con l'arco e la lancia che otterrai quello che ormai desideri da anni a Aloy risposte sicuro che mi riammetteranno? te l'ho detto Aloy per legge ogni bambino emarginato può affrontare la prova e chi la supera diventa un'audace e non è più emarginato lo so ma nessuno rispetta la legge come fai tu Rost abbia fede Aloy la tribù onorerà il tuo diritto che devo aspettarmi una volta dentro troverai gente che banchette e festeggia più di quanta tu ne abbia mai vista nessun villaggio come cuore della madre è la sede delle alte matriarche un centro della vita Nora un gioiello della terra sacra dalle tempo e te ne innamorerai come me quando ero nella tribù va bene sono pronta ci vediamo presto a casa non mi troverai più lì Aloy ecco prendi questo come ricordo perché parli come se non dovessimo più rivederci no no dovresti restare con la tribù e io sarò sempre un emarginato ma te l'ho detto ho pensato a tutto verrò da te in segreto sarò io a infrangere la legge non tu tu non dovrai nemmeno parlarmi questo attaccamento a me ti sarà soltanto ad intralcio desidero che tu ti integri nella tribù hai vissuto isolata troppo a lungo non è stato così finora per il tuo bene devo andare dove non potrei mai trovarmi questo questo è un addio ok allora grazie per l'amuleto mi ricorderà di te di quello che hai fatto e di come mi hai preparata per questo giorno grazie grazie è pesante ma il filo regge che la madre ti assista a noi anche te come può farmi questo di tutti i giorni proprio oggi devo restare concentrata sulla prova chi siamo ragazzi è arrivato il giorno dalla prova vedremo un po' cosa sapremo fare torna indietro torna indietro emarginata o sanguina è una tua scelta l'arco l'arco spostatevi audaci fatela passare lei è la benvenuta cuore della madre è aperto per te vieni la maggior parte dei nora non è come quegli idioti sei tirsa chi altri se no vieni con me attendo questo giorno da molto tempo sul serio ma per il momento devo lasciarti ho altri stranieri da tenere al sicuro stasera tu cosa emissari di un'altra della prova nonostante in ora li odino carja ma questo è un mio problema ne parleremo dopo nel frattempo goditi la festa oh lungo il sentiero a destra troverai un amico che non vede l'ora di vederti ma io non conosco nessuno qui raccontalo a lui parleremo più tardi che la dea ti protegga che sta succedendo? bene non parlare più questo osso anche lì tutti dicono che i festeggiamenti dell'oro Aloe sei tu vero? di qua sei Aloe giusto? è così che ti chiami vero? sei tu il vecchio amico di cui parlava Tirsa non ti conosco oh non ti ricordi di me beh è stato molto tempo fa mi chiamo Teb eri la metà di me quando mi hai salvato da una mandria di macchine mi ricordo volevi ringraziarmi non l'ho mai dimenticato ho sempre sperato di rivederti se avessi partecipato alla prova come vedi non ho avuto successo come cacciatore servo la tribù come tessitore invece creo ornamenti e corazze in vista di questo giorno ho realizzato un abito per te spero ti piaccia quanto mi costerà? costare? nulla consideralo il grazie che ho cercato di darti anni fa in ritardo ecco ti sta alla perfezione grazie Teb non ho mai avuto nulla del genere prima ora è tuo vedrai che offre molta più protezione di quello che indossi ogni abito ha i suoi vantaggi al giusto compromesso va bene basta farti perdere tempo vai alla loggia delle matriarche se vuoi trovare Tirsa la riconoscerai è una grossa costruzione in legno con una folla furiosa all'esterno Tirsa ha detto qualcosa su emissari di un'altra tribù sì per questo sono arrabbiati sono Ikarja in visita alla terra sacra dopo tanti anni mi aspetto di vedere volare dei pomodori forse sassi spero non delle lance in ogni caso stai attenta scendi subito di lì non ti basta essere ubriaco perchè devi metterti a scalare casa ora ascoltate il tece a bus dovrei registrare noi quando non ci sarò più Aloe, di qua Karst, che cosa ci fai qui? Attenta, fingi che non ci siamo mai visti Non avrai mai dovuto trattare con gli emarginati, ricordi? Come dimenticarlo? Generoso da parte tua parlarmi ora Ora non fare così, lo sai che farò il tifo per te nella prova Non vedo l'ora di vedere certe facce quando vincerai E se ti servono scorte dell'ultimo minuto, ci penso io Quindi, cuore della madre, credevo preferissi là fuori Uno non può sempre bere da solo, non credi? Ogni tanto un po' di compagnia mi fa piacere Ecco, l'ho ammesso, ora non pensare male No, non lo farò, se mi fai uno sconto Non direi sul... Scherzo, Karst, è bello vederti Non prendermi in giro E va bene, adesso vado Buona fortuna per domani Fra un attimo benediremo la prova Ma prima dobbiamo accogliere gli ospiti Da due anni ormai siamo in pace con i Karja È tempo di recuperare i legami di scambio con Meridiana Questi emissari oggi sono venuti da noi in segno di pace Pace? Quale pace? Un annuncio di gratitudine Vostri schiavesti! Vostri schiavesti! Vostri schiavesti! Vostri schiavesti! Ehi, ehi, giù la frutta Fedeli in ora, giù la frutta Sono Noseram, non un Karja Quindi sarò molto franco Il tredicesimo re sole era un pazzo omicida Oh, è così Un tiranno e un mostro Ha saccheggiato la mia tribù per i suoi sacrifici come la vostra Ha rapito anche mia sorella, Karja Ma il tredicesimo re sole è morto Due anni fa E chi l'ha ucciso? Il quattordicesimo Già E non perché volesse il potere Ma perché qualcuno doveva porre fine alle atrocità di suo padre Già Il messaggio che questo povero sacerdote vuole leggere È una richiesta di scuse Giunge dalle labbra del quattordicesimo re E quindi Potreste prestargli attenzione Grazie Un annuncio di gratitudine Scritto per mano del re sole Abad Quattordicesimo sovrano E la stirre raggiante Sembra che ce l'abbia cargiato È uno degli aspetti Dispositivo sconosciuto rilevato Cosa significa? Indossa un focus Come il mio Ha esagerato Oltre a te non ho mai visto nessuno con indossa un focus Dove l'hai trovato? Cosa? Una Nora? Con addosso uno di questi Ma è impossibile La tua tribù teme i luoghi antichi Li proibisce Chi dice che sono come gli altri Nora? Beh Forse non lo sei Se hai rovistato nelle rovine del mondo di metallo Che cosa c'è? Scusami Un'anomalia Olin Vedo che ti stai dando da fare Torno fra poco Aspetta No Parliamo dopo Devo andare Wow Sembra più sbronzo di quanto pensassi Ehi Vedo che hai lo stesso gingillo che Olin tiene in testa Da quando quegli affari vanno di moda? Il suo nome è Olin Chi è? E questo dove l'ha preso? È soltanto un rovistatore con amici importanti Passa metà del suo tempo tra manufatti e l'altra metà a bere o a scommettere Quanto al gingillo l'avrà rinvenuto da qualche parte È solo uno strano gioiello che si è messo in faccia Senza offesa A te sta benissimo Cos'altro puoi dirmi di Olin? Ti interessa così tanto? Inizio a essere geloso Vabbè, setaccia la natura alla ricerca di rovine Recupera roba e la vende ai nobili Quando non cerca cose, esplora Le abilità che vorresti nell'uomo alla guida della tua spedizione Lo conosco da un po' di anni È un compagno leale Ama la sua famiglia E regge l'alcol abbastanza Mi piace Oltre a questo, non molto altro Credevo che il tuo amico finisse sotto una pioggia di frutta Ma... Tu hai placato gli animi Grazie Mai avrei pensato di farcela In ora sono ancora infuriati con i cargia Per via dei giorni rossi Come dargli torto? Vorrei chiederti un'altra cosa Se insisti Ma sarò qui anche dopo la benedizione Se pensi sia un momento migliore Non avevo mai sentito parlare dei giorni rossi Che cosa sono? La tua tribù era in guerra e tu non lo sapevi E cos'è? Ti hanno tenuta nascosta Per caso hai avuto dei genitori iperprotettivi? Sono cresciuta da immarginata Cacciata dalla tribù Ah, giusto Ho sentito che in ora lo fanno Una cosa crudele, secondo me Ma perfino un'emarginata Sa dello squilibrio delle macchine, no? Di come diventano più pericolose Beh, il re sole folle pensò che se avesse versato abbastanza sangue al dio del sole Avrebbe placato le macchine Non fu così Ma per anni assalì le tribù E prese prigionieri da sacrificare Tra cui mia sorella In ora si fecero valere Ma alla fine Subirono delle perdite Quindi cos'è successo? Com'è finita? Il figlio del re folle Ha riunito i cargia ribelli e le lame fiere Oseram Insieme abbiamo fatto l'impossibile Riprendere Meridiana e uccidere il vecchio repazzo Quindi ora il figlio a sedere sul trono Ed è stato un grosso passo avanti Con Avad, sacrifici e schiavitù sono stati aboliti Ora la gente di ogni tribù è la benvenuta a Meridiana Perfino gli esuli Nora Dovresti davvero visitarla Tua sorella è stata catturata e sacrificata È terribile Catturata, sì Sacrificata, no Ci vuole più di qualche cargia per finire Ersa È fuggita E ora è il mio capitano Capitano dell'intera avanguardia Nominata dal re sole in persona Com'è sopravvissuta? No, è una bella storia Ma piuttosto lunga Magari un'altra volta davanti a uno o tre bicchieri Oppure vieni a Meridiana e chiedeglielo tu stessa Penso che andreste d'accordo Siete entrambe... Dirette Hai detto che le macchine sono più pericolose ogni anno? Sì Ma non serve che te lo dica io Non lo sapevo Oh, scusami Credevo che lo sapessero tutti Da quanto ho sentito 15, 20 anni fa Le macchine non erano inferocite Come lo sono in questo momento Se un cacciatore si avvicinava Scappavano spaventate Così abbatterle era difficile Ma non pericoloso Ammesso che fosse abbastanza sveglio da schivarle Ma poi arrivò lo squilibrio E la situazione cambiò Così se un cacciatore le colpiva Le macchine davano di matto E lo caricavano Passati altri anni Hanno iniziato ad attaccare la gente a vista Spostarsi a un rischio sempre più grande Come se non bastasse Sono iniziate a comparire nuove specie di macchine Più grandi Più cattive E ben protette Come il secodonte? Già, quello dieci anni fa Ma circa ogni due anni Compare sempre qualcosa di peggiore Credimi E quale sarebbe la causa? Non lo sa nessuno E le macchine non lo dicono Chi sono gli Oseram? Sono la mia tribù Nel lontano nord-ovest Siamo bravi in tre cose Litigare, lavorare l'acciaio E fare distillati E dimmi Le lamefiere che cosa sono? Credo che la parola giusta fosse mercenari Guerrieri a pagamento Anche se eravamo molto più leali di quanto sembrasse Avad non avrebbe mai rovesciato suo padre Senza le nostre armi E ora alcuni di noi servono nella sua avanguardia Se i Karja hanno un passato così crudele Perché li servite? L'ultimo re e i suoi erano dei macellai Ma il nuovo re vuole la pace E non ci vedo nulla di crudele E poi i Karja non combattono soltanto Costruiscono Prendi Meridiana Al suo confronto Tutto il resto è un ammasso di legno e pietra Vorrei chiederti una cosa su ciò che hai detto prima Prego Dovrei avviarmi verso la benedizione Già Senti, forse non dovrei dirtelo Ma è chiaro che tu non appartenga a questo dimenticatoio Voglio dire, sei sveglia Palesemente in gamba E beh Andiamo, guardati Di che cosa stai parlando? Lo saverò in giro e ti presenterò alla gente Sarebbe una nuova vita se mai volessi Comunque anch'io Devo andare alla benedizione Ci vediamo in giro Magari Ehi ragazzi Noi ci vediamo qua Siamo un po' strano per chiudere un video Però va bene E Fino domani con il prossimo episodio Bella Ciao